Una strana vicenda, quella di Lucia Spagnolo, promessa dipendente di Sanità Service. Sembrava tutto pronto per l'assunzione, c'era solo l'atto formale, il contratto da firmare, prese anche le misure per gli abiti da lavoro. La Sanità Service, nella fattispecie Lucia, si sarebbe occupata e si dovrebbe occupare del settore nell'ambito delle pulizie. A un certo punto, nonostante l'ASL abbia bisogno di personale, un certo numero di assunzioni rientri nel fabbisogno richiesto, improvvisamente, per ben due volte, questa assunzione salta. Un po' come stare, voglio banalizzare un po' la cosa, anche per sdrammatizzare, come arrivare all'altare e per due volte ci si ritrova mancata sposa. Cosa è accaduto? Ebbene sì, la beffe è avvenuta per ben due volte. Lo scorso anno sono stata convocata per fare tutta la procedura di assunzione, come analisi, presentazione di documenti e quant'altro. Quest'anno sono stata riconvocata nuovamente, per ripetere il tutto, compresa anche la visita medica. Uno dice, questa volta finalmente ci siamo. Ci siamo, e invece no. Il blocco assunzioni da parte della Regione ha impedito, anche questa volta, la mia firma del contratto. Insieme ad altri idoni del concorso, ovviamente, che siamo ben 18. Ecco, la mansione specifica? Ausiliario e pulitore. Quindi, immagino anche lo stato d'animo. Si parla tanto di una città in cui c'è penuria di lavoro, ma per fortuna, paradossalmente, il fabbisogno proprio imponeva il ricorso all'assunzione e invece no. Una situazione, come dire, inquietante, misteriosa. Cosa c'è sotto queste mancate assunzioni? Questa è la voce di Lucia Spagnolo. Ma ora ci soffermeremo sugli aspetti legali, più squisitamente giuridici, con il legale di Lucia, l'avvocato Fabrizio Del Vecchio. Avvocato Del Vecchio, come detto, qualcosa non quadra. Ecco, soffermiamoci sugli aspetti giuridici. Ci sono delle contraddizioni, ci sono degli aspetti sui quali, delle realtà sui quali necessariamente fare giustizia nelle sedi competenti. Ma certamente interesseremo la magistratura perché, come ha ben detto la lavoratrice, perché io la voglio chiamare così perché effettivamente non può non considerarsi tale il dipendente vincitore di concorso che viene chiamato a svolgere le visite mediche, viene chiamato a provare anche la divisa, ma nel momento in cui deve prendere servizio viene dall'alto tutto bloccato. Noi interesseremo, io ho avuto in carico in tal senso la magistratura, per verificare naturalmente se questo diniego e questa mancata assunzione, con tempistiche che al momento non si conoscono per l'inizio dell'attività, sia stata effettivamente posta in ossequio alla legge. Ecco, e quali sono o quali sarebbero le ragioni dietro le quali si arrocca l'ASL? Diciamo che al momento non abbiamo avuto indicazioni precise, sebbene comunque da un punto di vista sindacale siano stati fatti degli incontri in tal senso. Di fatto i lavoratori, perché continuo a chiamarli così hanno avuto soltanto delle indicazioni precise di blocco delle assunzioni in attesa. Nonostante la richiesta di Fabi Sonja. Nonostante la richiesta, perché naturalmente poi Taranto è da questo punto di vista a penuria di personale e quindi naturalmente l'idea che ci possano essere dei soggetti vincitori di concorso che possano prendere servizio e venga bloccato tutto dall'alto, chiaramente ci sembra assolutamente inico oltre che legittimo. Avvocato, io cercherò di approfondire questo discorso per cercare di capire come mai si verificano queste cose. Lo faccio da uomo, da cittadino, da giornalista, ma anche da consigliere comunale, seppure è una questione più regionale. La situazione è strana. Noi parliamo di crisi occupazionale, poi quando uno spiraglio, un posto di lavoro, un barlume di speranza si apre, toh, questa luce viene brutalmente spenta. Anche proprio come lo dicevamo prima con Lucio, come è fatto proprio emotivo. Certo, ma poi soprattutto la sanità ionica che naturalmente ha delle carenze ormai. Si riverberano sui pazienti, sull'utenza. Assolutamente, in una città martoriata come Taranto, quindi chiaramente a mio avviso occorrerebbe avere un occhio di riguardo, sia perché naturalmente le patologie tumorali sono a conoscenza di tutti e quindi a mio avviso l'idea di bloccare le assunzioni per personale che possa effettivamente migliorare il servizio, a mio avviso è iniquo assolutamente. Quindi noi ci rivolgeremo alla magistratura per verificare se tutto è stato posto secondo E per concludere come si evince da questo documento, proprio il fabbisogno di 18 unità del concorso come evidenziato dalla amministratrice unica di Sanità Service di Leo. E dunque, dopo i misteri di Parigi, i misteri della Sanità Service di Taranto. Indagheremo perché è un giallo, non vogliamo assolutamente spettacolarizzare la vicenda ma vogliamo dare giustizia a chi merita un posto di lavoro non fosse alto perché era lì sul punto di firmare un contratto. Chissà, quel contratto non sa da fare né mo' né mai, parafrasando un po' l'espressione del Manzoni nei Promessi Sposi.